Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke, anche se dalla skin vi viene qualche dubbio e sono qui in questo nuovissimo video pronto a presentarvi una nuova serie ragazzi che sto progettando da un po' di tempo Non c'è la mia skin perché ragazzi la techit puntualmente è un po' buggata sulle skin ma lasciamo stare Già vi ho spoilerato il mod pack sulla quale andremo a fare una serie Perché andremo a fare una serie ragazzi? Per due motivi andremo Uno perché non sarò da solo Due perché sceglierete voi se portarla Come fate a sceglierla? Raga, basta lasciare like sotto questo video e scrivermi dei commenti sulla vostra idea di questa serie In che senso? Dice, dite Luke ma lo sai che fanno poco schifo come idea Oppure Luke, bella st'idea, non vedrò l'ora di vedere i video E raga, io spero di trovare commenti positivi e tanti like So che ci saranno pochi views raga perché la maggior parte del canale è una cosa purtroppo a malincuore che devo dire è scritta soltanto per i video di The Legend Ossia l'HopilagiPryson e SkyGrid Però ragazzi il mio canale non è fatto solo di quello Infatti cerco di far affezionare le persone Non solo alle serie ma specialmente al mio canale in sé Quindi ragazzi vi propongo questa nuova serie Che giocherò con altre persone Che saranno queste persone? Ossia tutti coloro che puntualmente sono ogni giorno nel mio TeamSpeak Che voi trovate in descrizione E raga non si parla che da una settimana entrano Bensì con quest'anno penso che sia un anno proprio Che entrano e quindi raga mi posso fidare molto di loro Per portare una serie in cooperativa Chi saranno? Allora Michele come sempre presente nei miei video Nelle mie serie in cop, diciamo così Poi ci sarà Ninja, ci sarà Acted E forse anche qualcun altro E le persone che non ho nominato non l'ho fatto Perché sono più speciali In che senso? Perché c'è Ice che anche lui ha un canale YouTube E in caso decida di portare anche lui dei video Vi lascerò il canale in descrizione Così vi iscrivete e vedete quanto è bello quel guayuna Poi in altri YouTube ragazzi sono Ale Creeper e Gian Che hanno appunto il canale insieme Ossia gli Zero YouTube E ragazzi vi ripeto Se faranno parte anche loro della serie Metterò il canale in descrizione per ogni video Appunto perché ragazzi vorrei far crescere tutti insieme Come una bella community unita Tra noi piccoli diciamo Loro magari hanno molti meno iscritti di me Raga ma stica Cioè ci frega Noi basta che ci divertiamo Infatti deciderò E gli proporrò Di fare ognuno una serie sul proprio canale Sul server Quindi sarà una cosa molto ben organizzata E spero di convincerli Poi se vorranno Lo decideranno loro Detto questo ragazzi Che cos'è la Tech Hit? Molti Magari non conoscono la serie Ed è una Tech Hit Cioè è un pacchetto pieno di mod Cosa sono le mod di Minecraft? Aggiungono cose che di saluto Non puoi ottenere in vanilla Anzi togliamo il di solito Non si possono ottenere in vanilla Come ad esempio raga Un laser si può ottenere in vanilla Non credo E volete vedere quanto è bello? Pum Vabbè poi ovviamente io sto in survival Quindi mi fa male Cioè guardate quanto è bello Il laser E raga Questo è giusto un esempio Ma l'esempio più bello Che molti che conoscono già il modpack Vorrebbero vedere È questo che vi farò vedere adesso Ossia Il Destruction Catalyst Che cosa fa questo bellissimo oggetto? Raga Caricato con la Redstone Oddio mi stai inseguendo Mi stai inseguendo Strunz Caricato con la Redstone E caricato anche con la V Perché cliccando V ragazzi Selezionate appunto il Rage d'azione Cliccando poi col destro Farò un buco incredibile Ovviamente ragazzi Vi consuma Redstone Però neanche tanta volendo E quindi Ci saranno cose bellissime da fare ragazzi In questa serie Tra cui anche tantissimi macchinari Dell'industria craft Per chi conosce la mod Poi ci sta la computer mod Che mi pare che si dice così Ci sta il Quarry Che è davvero una cosa stupenda Raga Ci sta davvero Tanta cose Belle Bellissime Quindi ragazzi Vi invito a lasciare like Cerchiamo di arrivare a meno a 20 Ma se arriviamo di più Anche meglio Vi ripeto So già che ci saranno pochi views Però Speriamo che Soprattutto spero Che qualcuno di voi Condivida il video Per spargere voci Di questa serie stupenda Vi dico già una cosa ragazzi Metto le mani avanti Non ci sarete voi nella serie In che senso Voi sarete i totali protagonisti Perché mi direte Luke Nel prossimo video Fai Il mini glaser Che sarebbe questo No? Ad esempio E vabbè A quel punto lo farò Però non parteciperete In prima persona Che vuol dire Che non sarete all'interno del server Lo so che molti di lui Dicono Luke Vabbè ma è normale questa cosa Però raga Ve lo dico comunque Perché magari qualcuno Chiede Luke Posso entrare Vi ripeto Faccio giocare Sottanto quelli più fidati Non per cattiveri raga Ma Perché con loro comunque Ho contatti da un anno Quindi mi posso fidare Ciecamente Detto questo ragazzi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Spero che questa nuova serie Vi coinvolga anche a voi In prima persona Terza persona Quarta persona Qui come volete voi Dette queste stupitaggine Vi invito a lasciare like Un commento Dicendo cosa ne pensate Quindi Dicendo la vostra Condividete il video Iscrivetevi al canale E ci becchiamo alla prossima Bella a tutti ragazzi E ci becchiamo alla prossima E ci becchiamo alla prossima